Rococò. Il Rococò ha origine in Francia alla fine del Regno del Re Sole e trova massimo sviluppo in chiese, regge, palazzi, dove tutte le decorazioni non nascono insieme all'architettura, ma vengono proprio sovrapposte alla fine, dopo la costruzione. Vengono proprio riempiti tutti gli spazi. Troviamo comunque forme eleganti, molto raffinate, dove riconosciamo sempre la linea sinuosa, che è un po' quella che c'era già nel barocco. Le pareti però sono chiare. Sono stuccate anche. Spesso sono arricchite con specchi, decorazioni applicate, marmi policromi, un po' di tutto. Ci sono anche fontane, gruppi scultori che arricchiscono proprio le sale, gli scaloni dei palazzi nobili, ma anche palazzi pubblici. Però attenzione, parliamo del 1700 solo nella prima parte. Perché? Perché nella seconda metà del secolo ci sarà il pensiero illuminista, che andrà proprio a stravolgere tutto, cioè andrà proprio a determinare una svolta decisiva, verso uno stile molto più razionale, molto più serio, molto meno decorato. Il termine rococò ha origine dalla parola francese rocaille, una decorazione per giardini composta appunto da conchiglie e pietruzze. Ed è un misto fra questa parola e la parola barocco, perché in pratica è un'evoluzione dello stile barocco. Cosa succede in questo periodo? Succede che c'è una relativa stabilità politica e quindi fioriscono proprio la cultura, artisti, letterati, filosofi si spostano tra le varie corti europee e fanno proprio dei veri e propri viaggi di studio. Questa mobilità favorisce proprio uno scambio di conoscenze, di saperi e si crea proprio un linguaggio comune, unitario, un po' come era successo anche nel periodo del Romanico, ve lo ricordate? A questo punto si parlerà anche del Grand Tour, il Grand Tour diventerà proprio un rito rinunciabile per i giovani e ovviamente dalle famiglie benestanti che potevano permetterselo ed è proprio, si svolge appunto appena finito gli studi, prima di entrare nel mondo del lavoro, questi giovani vengono mandati a fare una lunga, lunghissima vacanza in giro per l'Europa, per vedere cose belle, cose nuove, imparare anche un po' a vivere, imparare anche le tradizioni delle altre nazioni. In questo momento quindi le pesanti forme barocche cambiano, cambiano proprio moltissimo, si alleggeriscono, cambiano i colori, troveremo molto oro, queste decorazioni anche fatte appunto da conchiglie, pietruzze, rocce, roccettine, decorazioni floreali, un po' di tutto insomma, basti pensare appunto a Palazzo Mirto a Palermo oppure addirittura a Versailles dove con la Galleria degli Specchi vediamo un sacco di oro, un sacco di specchi che riflettono quest'oro, la luce che viene riflessa dagli specchi, dalle luci delle candele ma le luci naturali, insomma in questo momento i colori sono sicuramente chiari, sgargianti e in molte altre cose invece troveremo i colori pastello, quindi rosa chiari, tenue, il verde leggero, il violetto insomma, un po' di tutto. La reggia di Caserta, viene inaugurata nel 1774 ed è proprio voluta dal re di Napoli, Carlo di Borbone, che la commissiona all'architetto Luigi Vambitelli e poi proseguirà suo figlio che è Carlo Vambitelli, ma questa reggia nasce proprio con un via di base un po' particolare, innanzitutto stilisticamente sicuramente fa riferimento a Versailles, è una Versailles decisamente non neanche tanto in miniatura, perché comunque è immensa, però la cosa particolare è questo incredibile parco che si estende appunto sul retro ed è sulla linea longitudinale e addirittura anche in pendenza e quindi comprende un acquedotto costruito proprio all'epoca e ancora funzionante e una spettacolare serie di fontane su più livelli che scendono proprio pian piano verso la costruzione, sono fontane con gruppi scultori che si fanno appunto a figure mitologiche, ma anche animali marini come i delfini, bestie strane, insomma che fanno molta scena, sono molto eleganti. L'idea però non è solo quella della reggia, Carlo di Borbone aveva avuto un'idea incredibile, soprattutto molto moderna per l'epoca, perché assieme alla reggia di Caserta aveva già pensato di fare appunto parco acquedotto e complesso di San Leuzzo, è praticamente una comunità autonoma che si basava tutta intorno al lavoro del setificio. Era un setificio che fra l'altro aveva avuto un incredibile successo anche fino in tempi moderni, cioè realizzava le sete anche per le bandiere di nazioni straniere, una seta molto raffinata. Fra l'altro Carlo di Borbone in questo luogo leggermente spostato dalla reggia di Caserta si era anche fatto costruire il Belvedere, che era in pratica la sua residenza privata, diciamo lontano dalla moglie e dalla corte, un luogo proprio di vacanza, però sempre legato alla città di Caserta. Fra l'altro la scelta del luogo non è casuale, non era sul mare, proprio perché voleva che fosse un po' più protetta, cioè dal mare potevano arrivare anche attacchi vari e quindi era meglio rimanere nell'entroterra, dove si poteva comunque godere la vista di tutto ciò che c'era intorno, l'aria buona, ma stare un pochino più tranquilli. Canaletto e le sue vedute di Venezia. Innanzitutto cominciamo col dire che Canaletto è veneziano e rappresenta molto spesso queste immagini di Venezia, ma la veduta è proprio un nuovo stile pittorico che ha origine nel 1700, è legata al Grand Tour, perché questo Grand Tour tanto in voga all'epoca richiedeva in pratica anche un ricordo, un souvenir da portare a casa, non c'erano ancora le cartoline. E quindi tutti questi personaggi che giravano come turisti di lusso si facevano realizzare dei piccoli quadri, ecco perché spesso le vedute sono piccole, quelle di Canaletto no, spesso invece sono molto grandi perché le sue opere venivano poi utilizzate per essere donate appunto a principi, insomma personaggi molto importanti stranieri, ma appunto nasce come veduta, quindi come simile cartoline dell'epoca. E quindi a questo punto i soggetti religiosi si affiancano anche delle scene di genere, c'è la vita quotidiana, le botteghe artigiane, i gruppi di popolani impiegati in varie attività, perché? Perché uno vuole portarsi a casa e al ricordo di ciò che ha visto, di ciò che ha veduto, però appunto il soggetto più apprezzato in questo momento è sicuramente il paesaggio. E spesso è anche, però attenzione, visto come un capriccio, cioè ci sono rovine magari esistenti, ma altrove sono accostate in modo così artistico, oppure sono assolutamente inventate, cioè ho inventato con accostamenti improbabili di edifici che magari sono lontanissimi. Canaletto si avvale dell'utilizzo della camera ottica, cioè fa dei bozzetti molto precisi, molto raffinati e minuziosi dal vivo a matita, dove annota anche appunto i colori di ciò che vede, delle cose particolari che magari si notano poco nel suo bozzetto, e poi torna invece in studio per realizzare queste immense opere, che sono quasi come delle fotografie dell'epoca, mediamente molto fedeli, tanto che spesso vengono ancora utilizzate per eventuali restauri di palazzi storici di Venezia. Però attenzione, anche Canaletto farà qualche capriccio, proprio perché questi capricci erano così, una licenza poetica dei vidutisti dell'epoca. La camera ottica. Guardate che la camera ottica, quantomeno l'idea della camera ottica parte proprio da lontano, fu descritta per la prima volta da Aristotele, sì sì, proprio lui, filosofo e scienziato greco, che partendo proprio dalla teoria del foro stenopeico, ricrea quest'idea della camera ottica. Il foro stenopeico in pratica era una stanza buia con un raggio di luce che passa attraverso un foro piccolissimo. L'immagine esterna verrà proiettata sulla parete interna buia, però perfettamente capovolta. Ma nell'undicesimo secolo si occuperà di questo anche un altro filosofo, un matematico, astronomo arabo, Keralazen. Ma nel 1515 anche Leonardo da Vinci, nel suo codice atlantico, parla di una camera obscura, che funzionava proprio con un sistema derivato direttamente dal foro stenopeico, addirittura appunto quello di Aristotele. Però poi lui ci aggiunge anche una lente regolabile, qualcosa di un pochino di più moderno ovviamente per l'epoca. Quindi inizia a ipotizzare anche il funzionamento dell'occhio umano. Vi ricordo che le immagini dell'occhio umano vengono proiettate esattamente come nella camera ottica, quindi al contrario. Guardate che nel 1568 la camera ottica la studierà anche Daniele Barbaro, quello della Villa Barbaro a Mazer, affrescata, veronese. E lui ne parlerà proprio in un trattato, spiegandone anche l'uso in tutta una sua opera dedicata alla prospettiva. Certo perché con la camera ottica si riesce anche a studiare al meglio, a rappresentare al meglio tutto l'effetto prospettico, soprattutto appunto nei palazzi, nelle strade, nelle vie. Ma la camera ottica, ne stiamo parlando appunto nel 1700, perché diventa famosissima e molto utilizzata proprio in questo periodo nel vedutismo, perché abbiamo detto che in questo momento va di moda fare il Grand Tour. Questi turisti privilegiati girano l'Europa e non hanno cartolina da mandare a casa, quindi si fanno realizzare dagli artisti delle opere di varie dimensioni con queste immagini di paesaggi visitati, anche appunto visti, veduti. Ecco da cosa nasce il vedutismo, sono le vedute, c'è tutto ciò che hai visto che vuoi portarti a casa come ricordo. A volte queste sono vedute assolutamente affidabili, come se fossero delle fotografie dell'epoca, però attenzione vi ricordo che esistono anche i capricci, cioè sono paesaggi immaginati con delle orvine pittoresche, magari anche realmente esistenti, però posizionate, assemblate in luoghi differenti, in modo molto libero, diciamo un po' poetico, un po' licenze poetiche. Ma parlando di Canaletto, dobbiamo assolutamente parlare anche del suo utilizzo della camera ottica. Come molti vedutisti dell'epoca, utilizzano la camera ottica proprio per fare dei bozzetti molto precisi delle vedute da rappresentare. Dopo, con calma, in studio, e spesso segna proprio i colori dei palazzi a mano, perché ovviamente la camera ottica richiede comunque un po' di velocità, insomma di utilizzo, non è che va a colorare questi bozzetti, sono bozzetti a matita, precisi, ma chiaro, fino a un certo punto, però per non confondersi poi a casa, scrive tutte le annotazioni di fianco. Lo fa lui, quindi il Canaletto, ma lo fa anche Bellotto, suo nipote, ma lo farà anche Van Vitele, il Van Vitelli, padre dell'autore e poi della regia di Caserta. Vedete, tutti questi nomi, insomma, poi spesso ritornano. E Canaletto diventerà famoso proprio realizzando le vedute di Venezia e accostando spesso dei piccoli bozzetti addirittura, uno a fianco all'altro, per ottenere una veduta totale, perché ovviamente la misura della camera ottica è data dalla lente e dal vetro sopra il quale ci si appoggia per realizzare i bozzetti. Ma in pratica, da che cosa è fatta una camera ottica? È un meccanismo molto semplice, seppur quasi magico. In pratica è formata da una scatola, una lente, un tubo, uno specchio e un vetro sopra il quale appunto ci si può appoggiare per ricalcare, o su un foglio, o meglio ancora adesso ne usiamo, tipo della carta da lucido che è un pochino più trasparente. Ma quello che serve assolutamente è la luce, la luce del sole, una camera ottica al buio o comunque anche in penombra non funzionerà a nulla. Guardate che l'utilizzo, l'invenzione della camera ottica nel 1839 porterà Daguerre, l'inventore della daguerrotipia, a inventare il daguerrotipo che è in pratica l'antenata delle nostre moderne macchine fotografiche. Longhi e Tiepolo, due pittori veneti, contemporanei, molto diversi fra loro. Iniziamo col dire che Longhi, amico di Goldoni, il comediografo, quel Goldoni, quello che porta a teatro la realtà e la quotidianità del 1700. Se non mi conpo si ispira al lavoro del comediografo e porta appunto in pittura anche lui la realtà che lo circonda, la realtà soprattutto della vita della media borghesia veneta, spesso ambientata addirittura a teatro come nel ridotto. I colori che utilizza però sono pacati, sono marroni, sono anche molto scuri, c'è anche sempre molto nero e comunque una pittura molto ben definita. Mentre se parliamo di Tiepolo dobbiamo proprio pensare a qualcosa che è quasi l'opposto, non c'è la realtà, sono sempre scene incredibilmente immense, lui fa freschi mediamente, quindi anche le misure cambiano, i colori cambiano, sono sempre colori molto chiari, evanescenti quasi, con prospettive quasi infinite e soprattutto ambientazioni che sono rinascimentali, settecentesche, anche quando invece l'immagine riportata non lo sarebbe. Per esempio nel banchetto di Cleopatra ci mostra una Cleopatra elegantissima, come una principessa ovviamente bellissima, bionda, che sta facendo il banchetto del secolo, quello che è in pratica una cena per impressionare e sedurre anche Antonio. Questa scena la mostra proprio elegantissima, seduta con servitori vari, a una tavola molto piena di cose ricche, con in mano una perla, quella che era la perla più grande del mondo conosciuto dell'epoca che era in suo possesso. E lei sta facendo vedere che il suo banchetto sarà il più costoso dell'epoca, proprio perché sta per sciogliere questa perla naturale in un bicchiere di aceto che poi Antonio berrà, perché diventa proprio una bevanda, che dovrebbe essere afrodisia, che insomma sarà la bevanda col quale lei conquisterà il cuore di Antonio.